Diamo il bentornato oggi negli studi di Temporadio al sindaco di Pozzolengo, di nuovo con noi Paolo Bellini. Buongiorno sindaco, buon anno ovviamente. Auguri a tutti. Allora, le coordinate per interagire con noi è filo diretto con gli ascoltatori, quindi gli ascoltatori invitati a partecipare. Il numero per sms e messaggi whatsapp è il 338 17 19 105. Se volete chiamarci fatelo 0376 63 17 09, la mail è diretta a chiocciolatemporadio.it e poi vi invitiamo a usare la pagina Facebook. Siamo in streaming sulla pagina Facebook grazie a YouTube, quindi lo siamo anche su YouTube, ma comunque ci potete scrivere oltre che seguire dalla pagina Il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, parliamo di Pozzolengo. Pozzolengo si sta preparando il bilancio adesso, dopo finita la pausa natalizia. Abbiamo consegnato il bilancio ai consiglieri, quindi io credo che lo dovremo presentare alla popolazione e poi andremo in consiglio comunale. Quindi siamo nelle fasi finali di presentazione del bilancio. È un bilancio sicuramente impegnativo anche per quest'anno, soprattutto per coloro che sono virtuosi, quindi vanno sempre di più a colpire quei comuni che sono stati virtuosi negli anni. Però queste sono le regole del gioco e con questo gioco dobbiamo giocare, non ci sono altre storie da dire. La cosa importante è che finalmente siamo riusciti a pagare tutto quello che c'era da pagare per quanto riguarda il centro risorse. Infatti a fine dicembre, il 28, il 29, il 27 dicembre abbiamo pagato l'ultima tranche di 100 mila euro del credito di cassa. Quindi ci siamo liberati in due anni di ben 464 mila euro di debito nei confronti del credito di cassa. Questo credo che sia veramente una nota positiva e voglio ringraziare naturalmente tutti i miei concittadini che hanno avuto fiducia e hanno stretto i denti in questi due anni. Da quest'anno penso che rivedremo un pochino la luce, quindi una grande attenzione nei confronti della manutenzione delle strade, delle piazze, dei parchi. Faremo una rivisitazione di tutti i punti luce che abbiamo sul territorio. Tra le altre cose, in questi giorni siamo riusciti a terminare con la collaborazione di Enel Sole, qualcosa come un terzo di tutti i punti luce che avevamo, quelli più obsoleti, sono stati sostituiti con proiettori a LED, quindi a bassissimo consumo energetico. Quindi abbiamo sostituito qualcosa come circa 302-303 punti luce, non è una cosa da poco. Su 800 e qualcosa punti luce ne abbiamo sostituiti 302-303. Quindi dovremmo anche, diciamo così, all'interno delle casse del bilancio, delle casse del comune, ritrovare un beneficio perché questi punti luce consumano circa un 60% in meno rispetto a quelli tradizionali oppure obsoleti come erano. Andremo a rivedere un po' ancora tutti gli impianti per capire se, anche se abbiamo tutti gli altri 500-550 punti luce, hanno lampade di ultima generazione, non sono a LED ma sono a lampade di ultima generazione, cerchiamo di capire che tipo di interventi potremmo fare, oltre naturalmente a quello che è drastico della sostituzione, per diminuire ancora il consumo. Quindi avere un risparmio energetico importante, quindi anche un occhio sotto un punto di vista ecologico. E detto questo, continueremo anche perché in questi giorni terminerà il posizionamento delle telecamere per quanto riguarda il parco Borsellino-Falcone e il cimitero, nonché due portali di controllo targhe. Continueremo naturalmente quest'anno ancora di più con il posizionamento di altri portali controllo targhe, quindi vogliamo controllare tutte le strade di accesso, di entrata e di uscita dal nostro comune e continueremo ancora una volta, come dicevo prima, per quanto riguarda la videosorveglianza, andremo a videosorvegliare quello che è tutto il parcheggio delle scuole, quindi scuole elementari, scuole medie, compreso tutto il plesso del centro risorse sociali. Tra le altre cose dovrebbero essere posizionate alcune telecamere, ancora anche per il controllo del parco Don Giussani, quindi credo che sia veramente un anno importante. Non ultimo, stiamo definendo lo sviluppo del polo sportivo e del centro sportivo, quindi sviluppo e naturalmente manutenzione, rifacimento e riqualificazione del polo sportivo, del centro sportivo. Lo stiamo definendo, penso che andare a fine gennaio, metà febbraio, abbiamo un quadro generale definito insieme con Polisportiva e con molti altri che partecipano a questa definizione del progetto. E ancora una nota importante all'interno dei servizi della nostra comunità, l'avevo già accennato l'altra volta, sta andando molto bene, sta avendo un numero importante di utenti, il centro di accoglienza d'urno, all'interno dei locali del centro risorse sociali, quindi con Hauser e con il consorzio Tenda. Tra le altre cose in questi giorni, la settimana prossima, ci incontreremo anche con ATS, ex ASL, per definire un servizio ancora più importante all'interno di questi locali e poi lo vedremo. Verranno portati anche i medici di base, nonché in alcuni, siccome avremo degli ambulatori che hanno spazio, potremo approntare così in collaborazione con Hauser e consorzio Tenda delle visite specialistiche, quindi dei laboratori specialistici in base alle richieste della nostra utenza e della nostra comunità. Un ulteriore servizio ancora nei confronti, diciamo così, delle categorie più deboli. In Villa Albertini, finalmente, grazie a un accordo fatto con Dognocchi, grazie a un accordo fatto anche con ATS, quindi ASL e quant'altro, da gennaio hanno aperto i battenti, ancora a dicembre, ma da gennaio dovrebbero arrivare i primi ospiti all'interno di Villa Albertini, sarà una residenza leggera per anziani, una sperimentazione, un accordo fatto per quattro anni e anche qua credo che sia una risposta importante alle esigenze non solo della comunità di Pozzolengo, ma anche dei nostri dintorni. Un luogo dove troveranno, diciamo così, spazio circa 32-33 ospiti. Credo che questo sia veramente una risposta, credo, importante per i servizi sociali, per tutto quello che conosciamo nel territorio. Assolutamente, anche perché gli anziani sono sempre di più la popolazione invecchia e anziani diventano tutti. Non abbiamo solo l'occhio per gli anziani, all'interno delle scuole elementari è terminata la sostituzione di tutte le porte per quanto riguarda i bagni, sia da piano terreno quanto il primo piano, quindi tutte le porte sono state rimesse a nuovo, sono state rifatte completamente, tinteggiate completamente i bagni, così come sono stati tinteggiati altre due aule, così come sono stati tinteggiati tutti gli spogliatoi della palestra, così come dovrebbero essere arrivate o stanno arrivando le LIM che avevamo messo in cantiere ancora all'inizio dell'anno scolastico, dovrebbero essere posizionate. Quindi grande attenzione anche nei confronti del mondo della scuola, soprattutto visto anche l'impegno economico che tutta la nostra cittadinanza va a mettere su questo capitolo. A tale riguardo, visto prima che si parlava del trasporto, vediamo se glielo trovo, dica qualcosa sul trasporto scolastico, grazie. Il trasporto scolastico, noi abbiamo un accordo con Hauser che fa questo tipo di intervento, negli anni avevamo un pulmino, siamo partiti con circa una trentina, 35 ragazzini, quindi 35 persone di utenza, 35 utenti, poi negli anni è andato così via scemando, aveva un costo, lo diciamo in maniera molto molto trasparente, il servizio costava quasi 60.000 euro e siamo arrivati all'ultimo anno utile, che poi quando sono arrivato era già stato tolto questo servizio, io ho fatto mandare naturalmente gli avvisi per avere chi avesse l'interesse ad usufruire di questo servizio. Mi sono arrivate 12 richieste, su 12 richieste preliminari, quando abbiamo chiesto l'adesione e naturalmente la sicurezza al servizio ne sono rimasti 5 barra 6, quindi attivare un pulmino scolastico per 5 barra 6 ma anche 8 ragazzini con un costo di 60.000 euro mi sembrava antieconomico e sicuramente non rispondeva all'esigenza maggiore di quello che era la comunità. Alla fine, visto che erano 5 o 6 utenze, abbiamo fatto questo accordo con Hauser e queste utenze stanno usufruendo dal servizio con un costo ragionevole. Benissimo. Allora, le leggo alcuni messaggi, Pozzolengo unico comune dove si pagherà la tasi, punto di domanda. Assolutamente no, non l'hanno mai pagata né la pagheranno. Con chi si unisce Pozzolengo? Pozzolengo per il momento è alla finestra. Stiamo raggiungendo degli obiettivi importanti con collaborazioni importanti. Abbiamo perfezionato delle collaborazioni con Soiano, abbiamo perfezionato delle collaborazioni con il comune di Cavriana, stiamo dialogando col comune di Sirmione, stiamo dialogando col comune di Lonato. Io credo che questo faccia parte di quello che è, non i rapporti di buon vicinato, ma quello che sono i rapporti tra i vari comuni per dare servizi sempre più efficienti. Quindi abbiamo la ragioneria che siamo convenzionati con Cavriana, abbiamo l'ufficio tecnico e la segreteria che siamo convenzionati con Soiano, stiamo ragionando su altri servizi. Io credo che questo sia, anche con Cavriana abbiamo l'ufficio tecnico convenzionato, io credo che questa sia la strada corretta, con grande attenzione, con grande tranquillità. Si cerca con chi si può fare un cammino comune, un unione di intenti, per dare delle risposte sempre più precise e naturalmente dare risposte a tutto quello che è l'utenza, delle necessità di cui rappresenta. Allora, fare politica, dice Terri, e occuparsi della gente, l'amministrazione dovrebbe dare spazio a tutti come vuole la democrazia, anche dice Terri appunto. Voi avete effettivamente anche una consulta giovane. Io credo che non ci siano grossi problemi per quanto riguarda Pozzolengo, democrazia, spazio. Abbiamo 23 associazioni di volontariato, abbiamo un tavolo delle associazioni, dove l'assessore al turismo, così come alle attività produttive, si ritrova puntualmente in maniera, diciamo così, periodica, con questo tavolo delle associazioni per sentire le esigenze. Tra le altre cose abbiamo un osservatorio della sicurezza, a cui partecipano i cittadini normali. Abbiamo un osservatorio giovanile, dove abbiamo 9, 10, 11 ragazzini, che vanno dai 12, 13 ai 18 anni, che quindi condividono un'esperienza, un cammino e danno dei segnali e delle proposte importanti a quello che è l'amministrazione. Non ultimo, dove avevamo, diciamo così, momentaneamente sistemato il centro risorse, che noi lo chiamiamo il monumento, di fronte al monumento dei caduti, quello stabile è di una famiglia di Pozzolengo, e l'ha dato in comodato gratuito al comune di Pozzolengo, ecco lì, visto che non c'è più il centro risorse, verrà messo questi spazi, abbiamo già fatto un documento di promozione, tutte coloro, le associazioni che vogliono avere degli spazi pubblici per poter discutere, per poter dialogare, per poter fare dei progetti, hanno rappresentato il loro interesse, adesso in queste settimane le convocheremo, convocheremo queste associazioni e metteremo in atto quello che era scritto sul documento, quindi questi spazi verranno messi a disposizione della cittadinanza. Io credo che questo sia una cosa molto importante. Allora, le leggo adesso più messaggi, perché abbiamo finito il tempo come sindaco. Salve, sono Alex, Natale è fantastico a Pozzolengo, grazie a tutti gli amici, ciao. Quindi questo è un ringraziamento da parte di Alex. Grazie. Allora, vediamo. Pranzo delle solidarietà, grazie Piera. Poi ancora, invece che pensare alla piazzola, pensate ai vigneti, unica fonte di reddito di chi lavora a Pozzolengo. Qua però forse merita una risposta. Non so che piazzola dobbiamo pensare. Allora, guardi qua. Diciamo che per quanto riguarda vigneti o non vigneti, il Lugana è ben presente all'interno di tutte le nostre azioni di promozione. Io credo che Lugana, salame d'eco, quindi denominazione comunale d'origine, così come lo zafferano in Pozzolengo sia il perno su cui ruotano tutte le manifestazioni, tutte le promozioni all'interno del nostro territorio. Credo che questo sia... Ah, la piazzola dell'elicottero. Beh, però se l'elicottero è quello dell'elisoccorso, qua salva la vita della gente però. Io credo che sia importante anche dare una risposta di questo tipo. Noi abbiamo sul territorio, abbiamo l'ex 118 che oggi è il 112, quindi emergenza sanitaria, urgenza, 24 ore su 24, con una postazione fissa, un'ambulanza. La regione Lombardia ha chiesto, ha chiesto a Reu, ha chiesto se era possibile individuare sul territorio anche un'eliarea, quindi un'area di primo soccorso dove poteva atterrare un elicottero, anche perché noi siamo un territorio che va a, diciamo così, una giuntura di cerniera tra l'Alto Mantovano e il Basso Garda. Noi abbiamo dato la disponibilità. Addirittura il Veneto perché è lì. Il Veneto è lì, abbiamo dato la disponibilità. Se ci saranno i requisiti che troveremo lo spazio, io sarò molto felice di dare questa opportunità, soprattutto perché è una risposta importante, non solo a Pozzolengo, perché nel momento in cui c'è un'emergenza, non solo a Pozzolengo. Certo, certo. Anche perché ci sono vie veloci con le quali le ambulanze possono arrivare. Dunque, il Sali, mi raccomando che fiocca, è arrivato questo messaggio. Guardi che c'era anche un altro, diceva che stasera appunto probabilmente... Sì, da stanotte a luna ha messo precipitazioni. Poi... Questa notte sono già usciti, ieri sera sono già usciti per dare una spolverata di sale su tutta la viabilità, anche se la strada è asciutta, però meglio prevenire. Fermiamoci un attimo, salutiamo Paolo Bellini, sindaco. Ci sono delle altre domande, gliele teniamo per la prossima volta. Grazie a Paolo Bellini, lo ritroviamo subito nella rubrica Tocannone. Grazie a tutti voi.